Nelle grigiore che ha caratterizzato lunga parte del girone di andata del Foggia ad illuminare la scena è Orazio Pazienza, il 18enne di recente blindato dal club con un contratto fino al 2027, ha scalato pian piano le gerarchie e da cinque gare è diventato un pilastro inamovibile dei rossoneri lanciato nella mischia nel breve interregno gentile, il tecnico del settore giovanile in panca nella trasferta di cava prima della svolta a Zauri. Da allora Pazienza è diventato titolare inamovibile, freschezza, intelligenza tattica e tecnica non sono passati inosservati nemmeno a club di categoria superiore, lui però pensa unicamente a percorrere la sua strada. Io ho sempre lavorato per raggiungere questo obiettivo, anche dall'anno scorso appunto stavo aspettando la mia occasione e credo di averla sfruttata e la sfrutterò al massimo per continuare questo percorso, siamo all'inizio e dobbiamo pensare, penso a fare bene io e al bene della squadra. La sua sembra una storia già scritta oltre vent'anni fa, un altro Pazienza, Michele, anche egli centrocampista, si ritagliò prima spazio e poi spicco il volo verso il grande calcio, corsi e ricorsi storici e parallelismi che diventano inevitabili. Orazio Pazienza per ora si gode il sogno ma non nasconde le pressioni di chi da Foggiano porta addosso la maglia della sua città. Continuerò a lavorare soprattutto per raggiungere tutti i miei obiettivi e gli obiettivi comuni della squadra, sono foggiano e sento addosso un sacco di pressione per quanto riguarda la partita in sé per sé.